la gentilezza che cresce si arricchisce di nuovi video di nuove storie oggi vi racconterò la storia di quattro studentesse che hanno deciso un giorno di unire le loro forze e le loro energie per portare la gentilezza per le strade come ve lo racconterò tra poco per la gentilezza che cresce di oggi sono qui con la storia di gesti gentili project che sono quattro studentesse romane che un giorno hanno deciso che non volevano più stare con le mani in mano ma volevano far parte del cambiamento volevano creare essere loro un cambiamento e creare scritto una catena di gesti gentili e infatti si chiama gesti gentili e i loro bigliettini gialli vanno sono andati a più di 500 operatori ecologici a Roma per dirgli grazie il loro motto infatti ringraziare diventa semplice gesti gentili io l'ho scoperto su instagram ho scoperto il vostro profilo ma non sono riuscita subito a capire chi c'era dietro ho capito che c'erano quattro ragazze che eravate quattro ragazze ma non non si vince nulla di voi non si sa nulla presentatevi ditemi un po come come è nata chi siete allora noi siamo quattro allora io sono arianna e sono diciamo parte di questo fantastico team insieme a tiziana caroline e carola diciamo che questo progetto dobbiamo tra virgolette ringraziare anche la nostra università lo ied l'istituto europeo di design di roma proprio perché ci ha concesso di portare avanti questo bellissimo progetto un'iniziativa di solidale che parte però da un da una materia quindi da la guerriglia marketing proprio che ci ha concesso di portare avanti questo bellissimo progetto tutte insieme quindi è stata una un'opportunità e anche proprio una una possibilità di crescere tutti insieme di fare qualcosa che ci unisse non solo da un lato lavorativo quindi da un punto di vista proprio di colleghe ma anche di amiche io sono caroline ma io un gruppo noi siamo tutte quattro studentesse di un corso il corso di design della comunicazione dello ied e appunto il corso che diceva che accennava prima arianna è proprio un corso che insegna della guerriglia marketing e quindi un marketing innovativo e non convenzionale noi ci siamo conosciuti appunto proprio per questo corso e abbiamo tutte in realtà storie diverse io sono una ragazza italo americana che prima ha fatto il liceo artistico e poi lo ied carola io anche ho fatto liceo artistico e poi anche appunto sto allo ied con tiziana arianna e caroline e poi comunque c'è tiziana appunto che ora si presenterà tiziana eccomi allora io sono sono tiziana e sono un po più grande delle altre ragazze perché ho già una una laurea in lettere e poi mi sono iscritta allo ied e appunto siamo come abbiamo potuto vedere quattro ragazze ben diverse però siamo tutte quante accomunate diciamo che quando abbiamo fatto proprio brainstorming per effettuare questo progetto di guerriglia marketing dovevamo trovare un problema di natura sociale e diciamo che subito siamo giunte al problema del fatto che manchi tutt'oggi la la gentilezza nella nella nostra società perché forse siamo le prime un po' a soffrirne di di questa cosa e quindi abbiamo colto l'occasione la possibilità che ci ha dato lo ied per per affrontare questo questo problema al meglio insomma delle nostre possibilità anch'io mi ormai qualche anno che insomma mi sono avvicinata alla gentilezza e provo in primo luogo esserlo io insomma e poi a cercare di comunicarlo con le parole con i disegni e anche per me il mio cammino è stato che in prima persona sentivo questa esigenza sentivo proprio la necessità di riuscire a creare un ambiente più gentile oltre che nella vita di tutti i giorni anche sul lavoro perché spesso sembra che l'unica modalità con cui ci si possa rapportare sul lavoro è quella di non guardare in faccia a nessuno essere molto molto spregiudicati e invece secondo me non è così e il vostro progetto la vostra azione che avete deciso di fare insieme riunendo forze molto diverse tutte le vostre personalità e le vostre storie personali è andata a beneficio degli operatori ecologici di roma perché voi dite una cosa anche molto importante molto bella che bisogna smettere di dare il valore alle persone a seconda di quel che di che mestiere svolgono quindi se io sono un operatore ecologico valgo meno di un dirigente insomma questa è la nostra società in effetti attribuisce molta importanza al lavoro che una persona svolge e quindi avete scelto se avete proprio scelto di partire da chi non viene mai ringraziato vero verissimo sì noi abbiamo fatto anche diverse abbiamo fatto diverse ricerche e il il mestiere proprio degli operatori ecologici era uno dei di quelli più vessati dalla dalla società e appunto proprio per avere una una determinata risonanza del nostro progetto abbiamo pensato proprio di prendere gli ultimi della della categoria affinché diciamo tutti quanti un po si rendessero conto di quanto appunto la gentilezza oggi manchi soprattutto al di là insomma proprio come come dicevi anche prima al di là insomma nella vita quotidiana anche nel mondo del lavoro in base a quello che fai a quanto guadagni a ruolo che ricopri a quanto il tuo lavoro è importante nella società quindi abbiamo pensato di muoverci come primo step con con loro proprio perché sono gli ultimi della della insomma delle ultime categorie della società quanto fondamentale insomma esatto soprattutto appunto questo quindi era il nostro obiettivo quello di scardinare l'associazione che viene fatta con il valore della persona al ruolo il mestiere che compie questo concept cioè proprio il nostro progetto è nato ehm questo l'anno scorso e quindi in un momento storico nel quale eh siamo chiusi eh siamo spesso eh quarantenati a casa e e quindi è nato anche proprio per questo perché ci siamo rese conto di quanto dei piccoli gesti dal sorriso del panettiere al postino che ti lascia le lettere le poche cose che comunque i pochi riscontri eh interpersonali che potevamo avere durante la quarantena se erano fatti di gentilezza o di un minimo gesto gentile potevano proprio cambiarci la giornata e quindi abbiamo unito queste due ehm esperienze che abbiamo avuto per ehm ringraziare tutti gli operatori romani eh sentite come quando io vi immagino che rincorrete gli operatori ecologici o gli lasciate il bigliettino glielo attaccate ehm come ho visto nelle foto magari a un un vetro insomma per rispettare anche le le misure che dobbiamo prendere in questo periodo eh anti covid qual è la reazione degli operatori ecologici delle persone che hanno ricevuto questi bigliettini cui spesso il lavoro viene denigrato o proprio non considerato ci sembra scontato che ci sia qualcuno che pulisca meglio se pulisce in un momento in cui non ci siamo noi e sicuramente nessuno gli dice grazie eh che reazioni ci sono state? Allora ehm diciamo che le reazioni sono state di varie tipologie eh chi un pochino più freddo chi un pochino più indifferente eh però tutti hanno avuto comunque una reazione di sorpresa nel momento in cui abbiamo appunto consegnato questi bigliettini anche la modalità è stata molto molto particolare perché eh ci siamo divise ehm in appunto chi andava in motorino quindi in qualche modo accostavamo queste camionette e lasciavamo questi bigliettini o invece appunto incontravamo per strada quindi ci fermavamo e appunto davamo questo bigliettino. Ci sono diversi episodi eh molto belli delle frasi molto belle che appunto ci hanno rivolto ehm per esempio stavamo stavamo vicino alla Palmino Togliatti quindi zona Cinecittà eh stavamo io e Carola e questo episodio diciamo lo racconto spesso ehm consegniamo questo bigliettino ad un operatore a un operatore molto anziano e mi guarda con questi occhi molto molto eh increduli eh gli consegno questo biglietto ehm prende il bigliettino e se lo poggia sul cuore quindi se lo poggia ripetutamente sul cuore e mi ringrazia ovviamente a distanza perché avevamo mascherina eh insomma eravamo ben ben coperte e mh l'emozione che si prova è un'emozione fortissima eh tuttora mentre lo racconto mi mi emoziono proprio perché vedi ehm quanto effettivamente un piccolo gesto possa emozionare cioè il dire grazie ehm non è soltanto appunto un dire ma anche un fare perché vedi proprio la reazione la reazione di queste persone che si emozionano e sono a loro volta grate per il gesto che che hai fatto. Ma erano molto sorpresi anche loro ehm mi ricordo con Caroline eravamo vicino a Piazzale del Verano e abbiamo messo anche insomma questo questo video sul nostro sui nostri social e ci siamo avvicinate a questa camionetta però eravamo in una in un parcheggio quindi eravamo a piedi e ci siamo avvicinate a lui insomma gli abbiamo spiegato che erano avevamo in mano questi bigliettini da consegnarli erano per dirgli fondamentalmente grazie per tutto quello che fanno cioè un attimo fra con uno sguardo con due occhi tanti anche perché vabbè insomma l'unica parte visibile del viso anche in questo periodo proprio che ha sgranato gli occhi cioè tra un lato che non ci credeva e dall'altra parte diciamo ma com'è possibile cioè poi infatti dopo un po' che è stato zitto ci ha guardato gli occhi sgranati ma noi non ci ringrazia nessuno ma 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 siete proprio le mosche bianche cioè quindi è stato completamente inaspettato insomma molte persone molti operatori ecologici all'inizio ci hanno guardavano per dire oddio è una presa in giro fanno sul serio ma che proprio cioè come se ne escono queste qua che vengono a ringraziarci e la parte più bella è stato proprio questo cioè sicuramente ha fatto molto bene anche anche a noi perché proprio insomma al di là di di tutto quanto proprio il ricevere vedere nei loro occhi l'incredulità la sorpresa il fatto di dire grazie c'è qualcuno che finalmente se ne accorge di quello che facciamo è stato imparagonabile che altro anche gli operatori ecologici proprio gli stessi dicevano a noi ma che davvero mi stai ringraziando non ci credo poi a volte ci scambiavano anche per le iene ma siete delle iene cioè proprio era tutto oddio davvero ci state ringraziando ci sono state veramente delle belle reazioni come hanno appunto raccontato arianna e tiziana ma tante altre proprio molto molto belle ci hanno sicuramente segnato a noi a noi di gesti gentili insomma grazie è una delle parole più semplici che impariamo proprio da da piccoli eppure quando qualcuno ce lo dice col cuore o comunque non siamo più abituati a sentirla uno si chiede se c'è dietro uno scherzo se si sono le iene fa fa sorridere però non non fatico a immaginarmi la la cosa a volte anche santo salutare le persone con un bel sorriso e di buongiorno come stai così le persone rimangono sempre un po sempre anche a volte un pizzico di diffidenza magari se sono così gentili vogliono vendermi qualcosa sempre questa paura una delle altre cose che ci è capitato ci chiedevano prendevano il bigliettino ci ascoltavano e poi quanto ti devo si paga guardi in realtà niente bene il vostro logo e non ve l'ho scritto le domande però è che ci pensavo prima il vostro logo che sono queste due g che si si uniscono formano una catena perché l'idea è appunto che la gentilezza fa bene a chi la riceve ma anche a chi la pratica perché ci torna indietro questa bella sensazione e anche nei vostri bigliettini dentro ci sono non c'è solo biglietto di ringraziamento ma ce n'è anche un altro giusto guardi io le ho qui vediente noi abbiamo messo i nostri due pezzi e i nostri due bigliettini dentro una busta proprio per evitare che si che si rovinino o proprio perché era un periodo un po ballerino e dentro si possono vedere i due le due parti del logo quindi le parti frontali uguali e il retro invece uno scritto qui la nostra qui la nostra la nostra dedica è molto spesso quando vediamo la città non pulita pensiamo che la colpa sia unicamente vostra quando in realtà anche noi cittadini abbiamo il dovere di aiutarvi a non sporcarla perciò grazie grazie per tutte le volte che ci hai pensato tu al posto nostro con sotto i nostri riferimenti instagram e facebook e due hashtag invece l'altro bigliettino è vuoto e bianco con scritto e adesso tocca a te condividi un gesto gentile proprio per incentivare la catena dei dei gesti quindi noi l'abbiamo fatto a te tu se vuoi puoi farlo ringraziare esatto creare una catena e vi sono tornate indietro le persone hanno iniziato ad usarli questi bigliettini avete potuto seguire un pezzino di catena questo no non abbiamo avuto ehm riposto con i nuovi con i secondi bigliettini però diciamo che ehm le varie volte che siamo andati in spedizione in giro per roma più volte abbiamo visto i nostri bigliettini all'interno delle camionette con solo il bigliettino del nostro ringraziamento uno che ci aveva colpito era proprio questo eh nostro bigliettino di ringraziamento attaccato al cofano ehm della macchina della camionetta e lasciato lì per giorni perché poi siamo ripassate a vedere l'abbiamo ritrovato sempre come un ricordo come proprio un quasi uno sticker un mantra che lo rivedi e ci ripensi e quindi eravamo molto soddisfatte di questo che se l'erano conservato ricordo della macchina. Beh dovete esserne sì orgogliose penso insomma penso che chi lo riceva se lo se lo terrà caro e se lo metterà insomma in un posto per poterlo vedere perché la funzione è poi del ringraziamento soprattutto di quello scritto e che eh rimane lì lo possiamo rivedere riguardare quindi ritorniamo poi a quella emozione no quella eh sensazione che ci ha che ci ha dato eh una cosa che mi aveva colpito oltre eh insomma sul nelle vostre storine di evidenza eh in cui si parlava di gentilezza era appunto che la gentilezza faceva bene come abbiamo già detto a chi la pratica ma anche eh e a chi la riceve e in più eh fa anche altre cose anche il potere eh di di fare altre cose come rompere l'isolamento e creare una comunità un senso di appartenenza quindi la gentilezza per costruire una società giusto? Esatto esattamente un po' come come dicevi tu eh proprio l'idea che anche un po' il nostro il nostro dimantano quello che tu dai ciò che dai in realtà è tuo per sempre quindi il donarsi il darsi all'altro è alla base di un rispetto e anche una convivialità quindi ehm sì assolutamente la gentilezza penso sia fondamentale per la nostra civiltà ma soprattutto anche in questo periodo un periodo di difficoltà di molta tristezza noi abbiamo voluto proprio dare questa scintilla che anche un po' ehm una nostra un nostro punto di partenza il cartone della Disney Soul quindi il il film di animazione di Soul in cui si parla proprio di questa scintilla no? No abbiamo voluto vedere la gentilezza proprio così come una scintilla che ehm fa partire fa partire ti dà la carica l'energia per fare qualcosa a bene di tutti insomma quindi eh la gentilezza è sicuramente fondamentale per tutti quanti. Bene sì sì condivido come una scintilla sperando che poi possa diventare quasi un'abitudine un bel fuoco e che possa radicarsi un pochino di più perché ultimamente a me spesso le persone mi hanno risposto eh vabbè parte tantissime anche sui social così quando ne parlo che ne sentono il bisogno perché poi in realtà molte persone dicono di sentire il bisogno di avere intorno una una realtà una società più gentile non piace praticamente a nessuno essere trattati male o essere ignorati essere evitati eh però in tanti poi non riescono non vogliono cercare di essere gentili perché dicono che non se lo possono permettere che è un lusso che è un accessorio una cosa che può fare è solo chi chi sta molto bene voi che rispondete a queste persone? Secondo me cioè nel senso che è vero bisogna stare innanzitutto bene con se stessi per poter per poter praticare atti di gentilezza anche perché se si ha una ehm anche in base alla visione che si ha la percezione che si ha di sé eh una persona può essere in grado di eh appunto essere gentile o meno e anche eh in base a quanto quella persona ha una sensibilità di vedere eh la bellezza in ciò che è piccolo comunque proprio nelle nelle piccole cose riesce ad essere grato per quello che ha senza magari nutrire sempre sotto quel eh quell'arrivismo quella voglia di dover fare sempre di più di dover spingere sempre quando in realtà se eh diciamo la persona in questione ha una una sorta di equilibrio dentro di sé per cui è a posto con se stesso e non 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 deve scavare continuamente a insomma a ricercare chissà cosa si predispone anche bene nei confronti dell'altro anche perché insomma la gentilezza è anche con se stessi non solo con gli altri quindi se io arrivo ad essere una persona gentile cioè ad essere gentile con me stessa poi lo sarò cioè se è un è stata una un'educazione con cui sono cresciuta ed è un mio modus operandi proprio anche con me stessa mi viene poi anche più facile farlo farlo con gli altri però in primis penso sia anche una una questione di equilibrio. Sì sì mi trovo molto d'accordo questa cosa che quando riusciamo a essere gentili con noi con noi stessi anche in equilibrio. Sì sì che forse bisogna anche avere un po' il coraggio di essere gentili perché nel momento in cui diciamo faccio questo gesto di gentilezza è come se avessi un po' il nervo scoperto no? Un punto debole e quindi poi si rimane feriti nel caso in cui questo gesto non non venisse corrisposto o venisse addirittura criticato quindi penso che essere gentili sia semplice però necessiti del coraggio secondo me. È vero molte volte l'idea della gentilezza viene associata quasi a una debolezza quindi perché la forza non non chiede mai scusa non è mai la forza è sempre vista come qualcuno che non ha bisogno di essere gentile quindi forse alle volte si ha paura che dimostrandosi troppo gentili si finisca per essere associati a delle persone deboli. Verissimo. Purtroppo sì. Quando invece credo invece ci serve ancora più sì ancora più coraggio per essere per essere gentili e per mostrarsi agli altri per fare fare un primo passo. Verissimo un po' ben piano. Adesso se Lazio appunto vi siete in zona rossa così come quasi tutta l'Italia e non probabilmente ecco non potrete più di tanto uscire per altre azioni come quella degli operatori ecologici però appena si potrà nel futuro dei gesti gentili ci ci saranno altre altre persone altri altre categorie che verranno ecco ringraziate. Sicuramente questo sicuro sicuro adesso stiamo iniziando a pensare alla prossima al prossimo mestiere e dalle nostre analisi e dai nostri vari pensieri stiamo pensando di iniziare a breve con gli insegnanti che anche se è una fascia di è un ruolo che spesso non viene gratificato e non viene anche preso per il vero valore che ha solo che ci siamo dovute fermare perché le scuole sono finite tutte in didattica a distanza quindi è un po' difficile però sì sicuramente nei nostri progetti ci sta quello di continuare ad alimentare la nostra catena. E chiunque volesse comunque continuare a consegnare lui i biglietti gentili voi avete messo a disposizione su Instagram un link di Dropbox in cui si possono scaricare i bigliettini stamparli e usarli e si esatto proprio finché chiunque senta questa questa esigenza può possa tranquillamente cliccare sul link scarica il template lo stampa e scrive la la frase gentile il ringraziamento dedicato a chiunque a chiunque voglia quindi è aperto proprio a tutti noi abbiamo soltanto iniziato è veramente una goccia nel mare però chi siamo noi per fermare la gentilezza degli altri quindi è aperto a chiunque. Anzi io spero spererei insieme che anche altre città altre persone si uniscano per a voi per fare proprio dei delle azioni di gentilezza di gruppo quasi potrebbero scrivervi nel caso su Instagram per certo certo sicuramente sì sì come noi siamo aperte alla condivisione bene così belle vanno condivise. Io vi ho chiesto invece di lasciarmi un si gentile in bottiglia il si gentile in bottiglia è un messaggio di incoraggiamento in una bottiglia che sono disegnata altrimenti andremo a fare altro inquinamento che già non ne abbiamo bisogno e nella speranza che questo messaggio in bottiglia possa arrivare a poi a tante persone e magari a qualcuno che ne ha particolarmente bisogno adesso condividerò lo schermo eccola qua questo è il vostro si gentile in bottiglia che mi avete lasciato questa bellissima frase ciò che dai è tuo per sempre e già me l'avete spiegato abbastanza bene prima se volete aggiungere qualcosa mi sembra una frase molto potente perché l'idea di dare è sempre associata a una perdita no do qualcosa e lo perdo per sempre come il bambino qui non vuole mai regalare un regalo vecchio una cosa perché ha paura di perderlo invece non è vero perché sui gesti sulla gentilezza che cose chiediamo il tempo l'impegno invece non lo perdiamo esatto poi è che sembra sembra anche una un po un paradosso appunto dal momento che se io posso dare una cosa come è possibile che poi è mia è mia per sempre però dal momento che sono riuscita a dare a trasmettere una cosa vuol dire un gesto del tempo insomma qualsiasi qualsiasi cosa sia vuol dire che è talmente insita dentro di me fa talmente tanto parte di me che posso addirittura elargirla quindi è una frase che insomma io sento personalmente sento tanto bene io adesso ho quasi terminato il tempo disponibile su zoom quindi ora che vi devo vi devo salutare e cerco di riprendere interrompi la condivisione ecco ritorno qua così almeno vi vi rivedo meglio vi ringrazio davvero tantissimo il vostro progetto è molto bello e spero che possa proseguire ad espandersi a parlare adesso anche se ecco siamo tutti di nuovo molto in casa ma appena riusciremo le scuole riprenderanno tutto riprenderà ecco questi bigliettini gialli spero di riuscire a vederne tanti in giro e inizierò a consegnarne un po anch'io magari speriamo anche noi e sì soprattutto grazie per l'opportunità ciao allora ciao bravo grazie eh già sto registrando 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 eh già sto registrando